via costa lo sapete come sono fatto io però vabbè e calla! e lo sapevo io e costa la perdo sempre io vorrei arrivare almeno a smeraldo 3 anche se come hanno fatto i cosi non arriva a diamanti 5 e quasi nascondi ecco perché siamo per non uccidere è costa no c'erano costa consolato stadio bravo e cos'erano le altre canal siamo votato nel stadio loro consolato e io devo la scimmia ecco comunque perché troviamo gente abbastanza scarsa comunque c'è franci che ha 0,8 mario che 0,9 lui che ha 0,7 c'è la fine ci sono solo io e marco che teniamo un po' su e ci sta a trovare gente un po' scarsa come quelli di prima magari troverai sempre gente così arriverei a champion in un secondo comunque finché devo dire mi sto trovando una cifra bene con il miraglione attacco ma difesa attacco attacco difesa no è vero sono un attacco usa il miraglione no se te ci trovi dipende c'ho lo stesso radio intanto c'ho lo stesso radio dell'altro l'altro dipende da come vogliamo attaccare presto ti chiamo in un modo pillionare ma se ti chiamano l'altro l'altro ancora se stanno sopra teniamo usa teniamo tutti questi qua cambiamo solo ace venite con me da balcone acquario il cavo finca si rampina finestra bianche capitao stai sul tetto a cui ricorri d'ogli aldi va vai vai facciamo il plant quello che io vi copro a testa in giù da finestrone anzi capitao vai rampinarti finestrone franci franci gianglimor mettiamo acqua metta acqua se escono il nomad mettilo sul porto a narghile ok jager è morto tornate bene acquario aspetta mi mostro a caricare l'armone e me droppo qua no 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 stai sempre rampinato non servi acquario pulito dietro bomba dietro bomba col plant venite dal balconcino col plant chi è che è il plant vieni qui sul balconcino mette il nome da su porto piazzate lo scudo lì davanti e planta dietro bomba io copro rotation gg copri un altro un altro con la mega pulse c'è pulso e raga che sta dietro morto per pulso esce Luigi ok ok buono cioè raga qua mezzo ho fatto tre persone questo attacco funziona sempre raga tre persone che t'ho fatto io la seriamente c'è nessuno che ha collato l'altro raga nessuno che ha collato l'altro c'è t'ha buttato il c4 due secondi rimane e morisse esatto si ce sei morto G ah 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 si l'ha tirato c4 sotto però aveva già finito i puntari raga io ho ammazzato prima jager ho ammazzato poi è venuto smoke e sta con la principale ah la miraglietta vabbè e l'altra arriva purso tranquillo ho sparato col pompa che viene dall'acquario che cazzo fai da sopra col pompa vada sotto porco Dio beh infatti raga col pompa non avessi non avessi diciamo buttato il fumogeno sarebbe molto prima secondo me caid perché era un coglione che strisciava per terra perché altro ho tirato il fumo in modo che non ti vedessero da rotation ah no no si si eh ma quello non stava lì non so che cazzo stava strisciando no no stava dietro le poltine a dietro le poltine a dietro le poltine se stanno ancora lì cerchiamo di fare la stessa cosa sotto 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 ok andiamo a far vertica l'attacco da office io si vado con Marta no si tu vini con noi andiamo a far vertica se lo siamo Mario è per flag bianche ok tieni il drone sul flag metilo sui vasi Franci si 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 metilo sui vasi più sinistra io prendo pure una Claymore così abbiamo già Claymore siamo buono G metti l'osa su sta porta qua metti l'osa rompi la vetrata gli rompi e metti la Claymore ok siamo vigile che sta qua eh G ok se me lo ping guarda nei gambe pingagli la testa pingagli la testa pingagli la testa gg aspetta 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 Mario mi chissà che è closa la porta è closa la porta si non lo vedevo però da qui ma ecco su ping 4 come fai a piame addio cazzo sempre qua G oddio Mario occhio veribica sta su ping c'è uno anche da bar blu e da bar alba madonna sciglie canci sta qua dietro vado io avanti con lo scudo veribica 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 sta qua ok bravo francina un altro degli andamazzano quello ti arriva sta in picco millimetrico un'altra volta questo buona terra bello ferito 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 3v2 1 bar blu sento dj fa qua cosa qua mettere lo scudo e rompile e ci metti anche le martie c'è la camma controllate perchè non ho l'angolo di problem rompilo e metti la clamor a posto c'è uno sicuro in bomba dronate raga dronate bar alba dronate bar alba franci si però raga state calme aspetta aspetta si si ping 2 ping 2 ping 2 iegar iegar si si entra in site torna in bamba lascia il drone va lascia Mario vai 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 raga ma il prante non l'hai preso comunque è uno dietro uno in bagno e uno dietro bomba uno in bagno e uno dietro bomba il bagno ho messo un uomo pronti per il pugno d'aria buono chi è Buck Buck per rompere l'ultimo muro dei clinch porco giù da santi 4 di merda per rompere questo muro qua dietro bomba occhio franci dietro bomba porco giù rompire quel muro laterale franci rompire quel muro laterale franci hai più visibilità che poi Mario picca c'ho avete 6 flash eh raga c'ho avete 6 flash uno che entra e pusha sta sdraiato sta sdraiato sta sdraiato vai Mario e niente a altra flash e pusha dentro Mario no la rieverandola su 1 rotation tipo l'ultima planta 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 porta cerca la kill no no destra no si bravi bravi o lo pusha insieme o stavate tranquilli e plantavate avete fatto solo di due cose si mi non è be' colpa mia non mi non ha sbagliato più che altro quando erano flashati li potevate pusharvi tranquillamente che erano tutti due lì uno su rotation uno dietro bomba no io ero flashato la si si infatti lo ho flashato allora se stanno sopra cerchiamo di fare la stessa cosa di prima però cerchiamo di mantenere le stesse posizioni questo sarà più difficile perché sono aspettano quindi guardiamo di più magari la finestra di alba se sei se sei rampinando il finestrone quelle robe lì ah vintaggio certo che questi qui sono proprio scimmie perché quando sono venuto aiutarvi con il vigile da Ovaralba vi sono trovato Worldheim bar blu e un altro come spaccava da Ovaralba con i due in office miliardo buono cerchiamo di fare questa cosa di prima metti ma la stessa cremo lì a fracci cazzo guarda sorris maledetto chi che cerca i droni è fatta per quello non è prima se hanno spaccato porta office ho sentito qualcosa spaccarsi ha rotto io la porta da dietro bianco no no era qualcuno che la spaccava da dietro eh non ho rotto il cazzo state coprendo bianche vero acquario eh sì ma mescolano da tutto dito il divan mi ha spaccato il drone no ok ecco da Aguil vranci è piaciuta non ho detto io c'è sempre la dietro c4 usata buono bravo io come al solito rotation se vuoi vado a mettere no ma dietro aspetta che si attivino i cosi aspettate che finisca se vi faccio il giro no no stai fermo lì mi devi coprire da bianche c'è stato operatore sotto non vi direi niente pulso ok c'è pulso sotto mi ha tirato un c4 ecco la porta che mi hanno spaccato prima è sotto in ufficio questo qua qualcuno che si rampina a testa in giù raga boni boni ce l'ho qua fazzita di cornuto sta pure sotto con l'altro l'antagg l'antagg no eh non lo so perché si è alzato raga cioè non so perché non so come fai non morì come fai come fai come fai pure quattro corpi dovevo ammazzare pure quattro perché sto gioco fa schifo provo a detta aspettate cristo c'è stanno tutto porco 2 niente porco 2 niente niente sono due sotto addirittura pulso i soldi no ma ho detto aspettate no no a me non me l'ho ammazzato è porco 2 ma è morto cazzo ne so è assurdo veramente è stato assurdo la troia quelli sotto si doveva per primi porco dio per primi quelli infatti avevo detto che ho iniziato a spaccare la porta di di rap pochettino un c4 mavermi in testa quando ti luci 4 non fanno 2 metri con scritto tirato 20 metri altezza sul tetto orco giudone ho già deciso dovevo certo lo vedevate dai bughi mi avete fatto quel centro è morto come uno stronzo è morto quello si vedeva un'ora prima c'è un drone da qualche parte se c'è muore sono cazzi nostra qua mettilo ma dove no no ma io non me la dimentico c'è un drone qua colpirin forse servono ragazzi c'è il drone insight anche da blu serve ragazzi ho coprendo acqua io sto in bitto però questi muri vanno rinforzati lo spaccano a questo flores c'è flores la c'è sua la la le ha fati da rovine comunque quel gastro lì fuori balcone fuori balcone aspettate raga finestrone raga bar blue 1 bar blue 1 finestrone raga raga finestrone blu cambia peccatore povre raga non c'è nè morta finestrone raga raga è raga che in bar blu occhio porco dio porco ma io c'è erano ha messo fronte miro bomba Ma ammazza lo guardo Però me l'ha fatto col tuo adesso Stanno entrando qui raga Si Quaritoia, quaritoia, quaritoia Ma qua lì nessuno Finestrone uno Finestra narghile raga Finestra narghile Finestrone Ma proprio il vengato a caso sul finestrone ma siamo seri? D'acquario, pure d'acquario Anche il finestrone D'acquario gg Sta affrontando sul pin 5 Nooo A sinistra c'è gg Ah no sono due Qualcosa Eh vabbè Eh vabbè Tutti quei rinforzi che non c'erano in site Eh vabbè Eh vabbè Vedi quest'altro No No blazù Ah Mio dio Questa è una difesa easy Eh un po' una merda Stamappa del cazzo Eh Sai come Io vorrei sempre bannarla Ma Chi c'era raga Chi c'è Chi c'è Anzi Anzi va usano floressor Parco Vai lì Boh Ha detto che ci stava Non sooo Eh come è entrato? Mazza ha parlato No 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 Ma io ve l'ho invitato Nel gruppo chiuso Eh prego questi qui sono dei tronchi ragazzi Madonna mia c'è solo uno che sta giocando Ok ok blazù In pratica dopo dovrebbe essere qualcuno Io io Quella volta abbia capito Ah ma c'è Pure cozz Ma te stacchi dopo Praticamente non ci giochi Eh cos'è se non c'è questo profilo C'è anche Oh cazzo c'è questo Crusader è bloccato un drone comunque raga occhio Mario il cesso non ci manca c'ho messo pure il mute questo ero sopra ruvina che mi aspettava non ci posso credere il mio office, il mio office e la libreria è baralba qua raga attenzione Marco sono attaccato entrambi i punti almeno e vabbè il wallbang mi ha sparato in test no wallbang in test dai porco disco porco baralba e bar blu baralba e bar blu arrivano cosa back back oddio e vabbè ingresso servizio l'italiano portami raga questi hanno fisse le info cioè non avevo l'info su di me mamma perché la potente è più si vabbè vedi qua da che parevano mongoloidi comunque raga mi dissono giù ma lo sono sono rotto al culo ma lo sono è solo che siamo disorganizzati noi a fare le cose loro hanno info precisissime sono sempre dove siamo cazzo non posso stare in un punto fisso della mappa che hanno subito infusive per fanno diretti c'è venti punti vabbè io vi saluto ci sentiamo domani ancora io bella buonanotte ciao franci buonanotte ciccio allora bravo francesco è bravissimo ha migliorato pure tanto è fenomeno si sta zitto gioco eeeh si no no anzi ciao franci buonanotte se beccava domani sera se passate a a in live stava legge per altro commento raga a me non mi fan vita voi mi fan vita voi a me lì a non mi fan vita è lì provami a tutta ah ma quello non ci sente g marco porca puttana andiamo in oh mi dissocio cazzo arrivate in video per una volta comunque allora c'ho proprio un altro ragazzo sempre da play qua eh allora blazzo giochi e deve giocare i due si c'è stato blazzo o di perché c'ho due ragazzi qua volano giocare blazzo ok sicuri eh ma blazzo non è questo si si pronte vedo la in bla call the ship tra una volta in live è appena appena venuto ah ok ok sta accendo adesso no no fate un change io non ho spento adesso che non posso più giocare dove giocare mi padre ma vai tranquillo franci ti preoccupa no vabbè se ti vedo qua e vai giocare per i cavoli tuoi cioè amici tuoi mica ti impedisco da giocarci sta tranquillo no ma che c'ho un altro parola amici che giochino stesso profilo col padre blazzo e lì e lì ma non entri e vai tramite Ubisoft fermo 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 accettavo una richiesta ormai da così sto invita io guarda un attimo e lì mi ricordo va bene Elia Fox non è uguale devi trovare pure il nick no non è vero Elia tutto attaccato ok mandata vai accettate invita ora puoi invitarmi ok ora invito brazzo no richieste di andare no inviti e stupendo sì perché su Ubisoft sento io e te ti 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 accettata ecco da tommy dad a posto accetta vai incerto il gioco simona invito mario gigi ma siete su twitch no bastardo gigi che ieri ci ha detto domani domani infame dai o capito perchè c'ha una ragazza dietro qua col mattarello non hai capito mandato blazu dai gigino mettiti su twitch facciamola live domani mattina faccio penso per le 11 una live di cosa per forza devo andare da una parte bella bellissimo mario una di quelle ore di studio che non ho mai fatto in vita mia abbassa la live abbassa il volume della live si si tranquillo tranquillo ma qui bisogna bere basta e calcola domani mattina faccio resident evil luiz no è luiz gamer domani mattina penso per le 11 metto resident evil e tanto domani mattina alle 8 e mezza devo stare da una parte e penso che per le 10 ho fatto per prima marco ci ha proprio perso adesso cazzo vai banca rega banca per forza banca grattacelo guarda prendemela acqua intanto qua capito stasera abbiamo fino a domani ecco bravo chi bagniamo faccerino r ragazzi ma concordate con me che questa è la mappa degli attacchi di panico grattacielo no no parco attacco da bagno è buono qua ma a me io mi cago io mi cago in mano su sta mappa ragazzi è tutta scura tutta buia ah è fattibile sta mappa dai no no questa sì questa sì questa è fattibilissima non so che ecco mi cago in mano allora se giochi a resident evil porco tu che fatti caghi sotto no io sì non me so mai fatto un gioco mi potrebbe diviare un qualcosa di ambiguo oh sì sì no no paura non tanto paura di ciò che posso vedere ma di jumpscare ma più che altro perché io non sopporto i rumori forti quindi con le cuffie mi potrebbe veramente optare il sistema nervoso anche al cinema mi si sbarrano gli occhi quando sento i rumori forti 방 誰 your time partner io ho finiti qualissimo ho finito inô me s'ho cagato sotto Vedi Outlast 2 Però non lo gioco Ma che si amato Ma che si amato porco du Ah raga comunque Bandit è qua se stiamo sotto serviva Ecco vi dice ho pure pensato a che è Bandit Eh non ho capito ma posso chiudere due muri e mezzo raga Commute Anzi o chiudo un muro bene o se no L'artitore stanno messi così a cazzo Con Elia ci abbiamo giocato i giri sera Mi ricordo bene Sì 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 Credo anche con Castle Non ti ricordo bene Sì 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 Tutte e tre ci ha giocato Eravamo noi Eravamo gli stessi Ieri eravamo gli stessi No c'è un'altra Uno scarsa in più che ai 20 però non c'è qua Eh quello che stream su Twitch Guarda un po' chi è Ma ieri stavo pure io eh Ah no tu non c'è C'erano i rom Non c'erano i rom No c'è stava c'è stava il Gio Ah sì no Non se n'è andato prima pensavo Raga io qua sto mettendo solo un mute Rega Di stare un pentolo Raga la botola Valla falla io Posso cambiare joystick Rega vado io su B o Ma perché hai sfarato a botola G? Così Cazzo Amaru Da dove? Trova a guardarti Da mal culo Puce a botola Sta puce a zi Rega abbiamo sbagliato a rinforzare qua Buoni 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 Stessa bar C'è qui c'era l'attenzione Morta E' morta Cazzo 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 Può scendere Può scendere Ragazzi Stai dentro droga Spoggiarlo Stai dietro al dragone E bricciano con insie Non riescono Bomba bomba GG occhio Dietro al dragone Ha fatto una rotation qui Adotto Ha bricciato Bomba B Buona cazzo Non ho servato Va bene Svece viene porta Dov'è? Ma già stava dentro Sì sì Bomba B Ragazzi c'è cam C'è cam Silenzio Marco Sono io Foxy ce l'avevo 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 No ma è morto 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 E si bricci vero? No da dietro E di di E di da qua Vaffanculo Che timing di merda Zitti ragazzi Da zitti Da dietro Ying Da destra Da destra Ti arriva Quella sbattagli Non sa che sei qua Ha dronato Ha dronato Occhio Non ti hai visto Non ti hai visto Ma va bene Ti ha visto Ti ha visto Era sledge Bello C'è il plant? No Sempre la briccia No? Bravo Non è bricciato Non è bricciato qua Non è bricciato qua Non senti se planta Però qua No Sa planta Sa planta Senti la gamma No Però raga Io sono morto Ma eravate in tre morti C'era una cam sola da guardare Sbagliato io Ma chi me l'hai chiamato in ritardo? E tu hai chiamato in ritardo? Perché si aveva guardato tutte e due le gamme Però eravate in tre morti Quello dico Eh ma è tempo che i giri le gamme Li capito? Non c'era un... Ma il fatto è che Allora Lui ha pushato come una scimmia Perché si è messo a correre Eh proprio a caso Allora raga Uno è... Cigi va a far subito Botto da te Così andiamo dal cazzo Che palle Ma che hanno bricciato qua questi raga? Ace Io avrei Twitch Ok Chiudi tutte e quattro i mori E blocco il dronaggio Per Twitch Posso? Intanto li faranno uguali Uno è il suo cazzo Il buco di droni qua Uno è il suo cazzo Dovevo fare su due droni E non ci troviamo con il primo Aspetta che se questi bricciano di qua Se uno si tiene sto site Tipo qua Io metto un bel posto qua Ci hanno con Twitch e garco È bloccato ma Twitch Te preoccupate Già un drone ho bloccato Provo a giocarmela diversamente Marco Non gioco di te Comunque prima sono entrati C'è un drone inside C'è un drone inside E mi hanno spettato Porco due sta cazzo Fregno Da lato drago ho chiuso tutto quanto Aspetta Mario Aspetta Mario Ho troppi dentro Spacca 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 No aspetta che entro Granata Granata Quante metri allie lì? Aspetta aspetta sto difendendo il bridge Nomad Dio porco Ha preso il frost forse raga Eh dove è il bridge? Vabbè È qua uno in drago Uno in drago Davanti Mario A sinistra A sinistra A sinistra Sono in due Corridoio C'è Twitch Twitch su ping Dove è il bridge C'è Dokebi col pompo Addio Questo mi fa il sugo Sono tutti sotto dragone Ci fa uno qua da testa Sono tutti da testa Vada Ying Non muore due di vita Ying due di vita Cazzo Da dietro Raga Ying da qua dietro Raga Ying da dietro Gli altri due Sono da dragone Uno da split Più z Sotto dragone Ying da split Ying da dietro Mi ha sbagliato io Capissimo Tg Eh mi sono entrati Maggono Tutte due da dragone No Non avevo dove copierlo Questo comunque Ah ma più ci sta fuori Tutte due da qua Ragazzi c'ho C'ho il joystick Che mi vada solo Devo cambiare Aspettate che prendo Quell'altro Andiamo sopra raga Abbiamo perso due difese Cazzo Eh già Mario se non avessi messo Quel cazzo L'avrei tirato subito L'Azami Sì L'avrei tirato subito L'Azami Lì Sulla prima porta Sì L'abbia sparito Eh lo so Quanto c'è di delay Sulla live Debitrate Proteggete le bombe Aspettate ma non muozi No aspetta No aspetta Il delay Dalla Sulla live Ah ma c'è vai Comunque soltanto quel centro Penso la cassa Giofando È possibile Porca miss Allora ragazzi Perché qua Ah Scusate ragazzi No 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 Ops Come la pari Come la vorrei difendere Gigi mi rinforzi qua Oh a lui sei entrata Scusate Amaro Bella Schettata La buona la mente Eh sì Siamo sentita Che stava droppando qua Bello Uno nel frost Sì Ma che si entrai Sotto verso Bambini Sì Ash Da scale principali Ah erano da sotto Sotto Che avete preso voi Amaro e Amaro e Ash Amaro e Ash Che è giusto voi Scale raga scale giallo Flores flores Ah vabbè ragazzi Io sparo di continuo E quello mi fa Ma io non so se Vabbè Pari parta bar Sono tutte e due fuori da lì E' entrato E' entrato Entrato back E' 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 morto Era back Era back Spaghi pure il suo peso Ma ma sparì Che sta sotto 200 pass Hai cam Gemmer Blocato con gemmer ragazzi E' una drona E' dentro Sala d'attesa Ormai Sta provo a bricciare Sta provo a bricciare qua Raga ma non se briccia Non ve lo preoccupare Stavo ancora là comunque Marco E' dentro Sì 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 Su posto c'è l'allarme Sta sull'angolo a destra la tua Apra E lì c'è un drone E' la tua destra Vai 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 E' qua Porta a destra la tua No ho sparato a te Ho sparato io Ho sparato io Sono lì a destra E lì c'avevi un drone E' la tua destra Bella per Luis Ah io? Sono con note che Luis Ho messo no Che perdo Addirittura Forno tazzo Ma chi è? Lucifer No Luis Gamer Sta brutta persona Stavola dietro no? Giusto? Ragazzi questi si stanno Prendendo il gioco di noi E questa cosa non mi va bene Manca a me Io vado così Cambio operatore Allora Allora Prendendo io l'ambici Prendi Poi vediamo adesso Adesso vediamo Andavo per dei punti Che culo Luis Oddio Vabbè va quella del mese prossimo La cornuta Sotto raga No No Sopra Stanno Sì sopra L'ufficio Office Vogliamo entrare da Thermite raga Thermite se briccia raga Prendo io però sarebbe stato rotto con il minuto O M2 O Ma chi devo prendere raga Qualcuno con mp Se ce vai C'è legion No Ok Raffetto Vabbè 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 però c'è stava Mario C'è stava Eh boberata meglio Dai Io non voglio prendere spawn Da un bivio Rappelliamo se qua raga Aspetta che mi ha giù il drone E arrivo da voi Sento uno qua da me comunque Stanno cazzo Mi sta rompendo qua Fai il pompa ce l'hai Ragazzi Droniamo Vabbè apri la botola qua Stanno uno qua dietro Hanno il mira eh Quindi occhio iniziazione Apri anche questo C'è uno qua Raga c'è uno qua io Ma perché stanno andando a fronte E non da dietro raga Venire da dietro Rega un po' in l'aria Il mira c'è uno dietro Porca madonna bro Porca madonna bro Rega Perché sempre da solo sto Marco sei da solo col def Ma perché Eh ma dobbiamo plantare Dobbiamo rompere da di là Dobbiamo rompere Thermite Dio Sempre la stessa cosa E lì Sempre la stessa cosa Ti fate qua Eh Qui manco male Visto ragazzi Manco male Visto È forte È forte proprio È forte Sulla manica di pippe Porco Dio Forti Stava sull'angolo Corridoio sotto Sopra giochi Cazzo Corridoio giochi E bambini E bambini Che cazzo lo prende a fa Dai due contro cinque Mario Che cazzo lo prende a fa E intanto piglialo Ma che cazzo dici Gigi Ma te ancora lo senti Mario Marco ma se tu ti piace Ti fanno quantare C'hai un minuto Porca puttana Prova pialla almeno Niente Ce l'avete qua ragazzi Adesso Si fa giallo Il drone Porca madonna I tv Ti fanno Tutta me No ragazzi Non c'ha senso Non c'ha senso Da dove prendi No ma con questo Movedi Se non questo Non usa trucchi Ma collisiona Impugnatura Verticale Ma te l'hai visto Io non l'ho visto Dalla cambia La stessa cosa Io Mi ha ucciso Mi ha ucciso Che non l'ho visto Dalla sua visuale Sembrava un rincoglionito Che stava fermo Come un palo E invece Io non c'è Stavo su quella porta C'è pure 17 Di ping La mossa è passata Al 40 Che però Stava 17 Non lo so Ragà Non è sentata Dio mio Non sento La situazione Si Si è gravata Pazzesco No ragà E quello Stai giochendo da solo Cioè Alzo le mani Ma quello Stai giochendo da solo Praticamente da solo Ha fatto 11-3-1-1-1-1 Quindi Che vogliamo dire Quello fa pre-fire Su un angolo Dove Lui ti vede Ma te non lo vedi Probabile che abbiamo preso Un vero champions Ragà Ti dico E se capito Non ho trovato Una bomba No Stai trucchi Gi Mo A priori che forza Una forza Sì Vabbè Io faccio Una piccola segnalazione Che la farei Ah È già segnalato Sempre Come si dicevi Noi Iniziamo a segnalare Io Non vedo Non vedo Per chi Da Rompermi le palle A giocare Con un controller Di merda E lui Può fare Che cazzo Oh guarda Ma anche se Tutti già Stamossi Tastiera Senza Recoil E comunque Tanta roba Vabbè Ma se giochi A main case Senza Recoil Per forza Che stanno Spaccando Qui sopra Stanno spaccando Vabbè Ci sono già rappellato Da sopra Sì sì Ce ne sta uno Che hanno spaccato Finanza Non spaccato È un po' Tanto Brinito È qua È molto Il centro È molto Il giocato C'è Un minuto Ragazzi È un minuto È un minuto Vanno sopra È tolto Un altro Ragazzi Hanno sparato Allora Aspetta Lazius Sta uno sopra E qui c'è una Camm La tua destra Aspetta Un bandit tolto un altro silenzio ho tolto tutti i bandit io che sta qua su porta che dite se abitiamo un barili sta su porta ii vabbè c'è il nome aiuto aiuto ragazzi ragazzi togliete le cam da dove? qua di erano da dove? scuso fatto no ragazzi c'è un altro portala da mani marco perché stavi guardando la porta e poi hai smesso? ha ammazzato ragazzi di jager l eh stava guardate lungo poi attento c'è la sinistra c'è la sinistra marco chi è dietro bagno? avete i droni? ho messo a climat avete i droni? no? la site ragazzi ho sentito la site quelli c'hai raga potete? ho trovato tutto credo stia subito è schiatta stronzo che gioco hanno un gioco proprio ambivo no ma l'importante raga è è distruggere il primo si infatti gli altri sono scarsi forze porca grande gioco sono normali più che altro rispetto a quello che poi per come ha sparato adesso secondo me è solo o al cronus o non mi sembra mankey perché non mi ha fliccato non mi ha fatto c'è morto proprio da coglione ma no no ma ha fatto kill molto molto randomiche non è per dire niente no ma si era postato raga cioè stava postato in egric ci ha messo bene punto si vabbè io ripeto sarò pure in testa di cazzo ma se lui mi vede io non lo vedo la situazione diventa un po' un bigo in effetti a quella è il gioco non è devo alcuna sono sopra fai per fire a un singolo angolo si si rega andiamo da iniziazione per favore si si con un brice ancora ehm prendo qualcuno con la virgilio ma sapete che vuoi vivere da ma secondo me lui rompe le palle ehm 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 vigil no perchè attivabilità se lo sanno è è è cazzo ci hanno preso l'isra raga perchè mi hanno visto la camera e mancosa vedere allora facciamo così abbiamo cambiato meno male bro vabbè ma secondo me riesci pure a questo però mancran per un botte dei giorni come? no per i valori giova però poi io vado dai raga botole faccio io qua vabbè a parte che qua arrivo arrivo occhio agli occhio era un auto da rampinati mi stavano appena per quel bengard c'è vigil qua sotto è qua nell'angolino forse mi faccio una free kill che tolto morto morto vigil prenditi iniziazione morto ok preso un qualcuno iniziazione preso un qualcuno iniziazione arriva uno tale drago non è vero non è vero stai tornando io ragazzi ragazzi se mi coprite vado qua il mio fermi coprite c'è non so guarda qua sotto uno sta girando uno spot già lo metto qua sotto raga un mp ce l'abbiamo raga siamo spottati qua vai briciabile oh raga blizz olizz 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 laterale madonna oh cazzo morto eh perché è quello eh per questo eh toccare i bricià toccare i bricià qua vai 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 qua già lo so morto il primo marco abbiamo un minuto che non sei no dietro dietro dai che non mi mori che sfigol che sfigol che non mi mori raga mute non mi moriva raga mute non mi moriva guardate che culo mi ha atterrato cioè mute raga l'ho tritata a sangue dopo 70 di danno st'arma io ho fatto un cazzo vabbè dg per lui aspettate due secondi raga che cazzo si chiama questo di naso è resa il tracker eh quello è da play e allora in the score io ah no può mettere resa il tracker e metti play cazzo dico e vi ricordate il nome pure so ma sapete che vi dico 6 o 11 ma io mi attivo un altro potenziamento famo ma il cazzo mio frere io c'ho ancora volato vicino ora che cazzo di carattera vabbè comunque raga buona serata stacchi stacchi g si si stacchi ciao buonanotte ragazzoni ciao bello buonanotte gg buonanotte ciao buonanotte che non capita sempre mirko roba mi viene da magica ah chi è che devo invidare c'era la giova in chat che ha detto che se non voleva far due se no stavo pensando attivo quello da tre giorni c'erano cinque domani domani eccolo mercoledì fino a giove eh ci sta oh si attiviamo oh la storia nero per ying bella addirittura che culo che culo pensate ti trovi a storia nero per ying io c'ho il 66% del pacchetto alfa io l'ho trovata con pacchetti bravo io l'ho trovata con pacchetti bravo addirittura che culo che marca di acqua mi è mancato lo cosa la lieve lo sapevo lo sapevo ne ero al 100% sicuro perché? perché ce l'ho anch'io la sto bevendo anch'io ho fatto un sorso ho visto l'erichetta rosa ho detto ma questa l'ho vista in live prima di niente ciò che ho fatto giova entri? non entra giova ma io mi sa che avvio un bel pronostitino vai si 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 ha startato un bel no tu sta invita ha startato arca 2 chi vuoi giocare? ecco il pronostico chi vuoi giocare in style life? dai avviate avviate avvio 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 ma c'ho 17 sub vabbè 5 ho regalato io ce ne avevo 12 quant'è che costa una sub? una sub da pc 3 euro e 99 dal telefono 4 euro e 99 ah ma io pensavo cifre gigantesche invece manco tanto no so 3-4 euro io ho spento altrimenti mi aggiungevo volentieri no buono buono quindi tipo adesso no come cioè come stavo ce la posso fare ragazzi come stavamo dicendo prima stavamo parlando delle mappe c'erano clubhouse stavamo parlando di clubhouse fuori con costa adesso cioè ci è capitata la migliore quindi non la voglio allora ragazzi ti risolvo ok io so che stasera stacco per luna raga che alle 6 e mezzo alza domani 6 e mezza domani che è martedì troverò un macello di traffico in giro e sei di roma? sì centro? no roma sud immagino ti sia traffico lo stesso sì no dove vai a roma guarda dalle 8 a mezzogiorno becchi sempre traffico poi dal pomeriggio dalle 4 alle 8 sono uguale ma che poi è vero che a roma è il casino con la zpl con i sanzi unici le strade tutto un casino sì sì ma è un macello proprio in generale questa fitta è merda stavo a pezzajuga la mia ragazza è spostata sì